ariete non cercate di confondere le cose rendendo ogni problema più complicato di quanto non sia in realtà attenetevi ai fatti e siate obiettivi toro la fiducia in voi stessi è in aumento e avrete l'opportunità di mettere in mostra ciò che sapete su un paio di argomenti particolarmente difficili gemelli lavorerete sodo realizzando risultati che potrebbero apparirvi deludenti tempo debito però vi accorgerete di aver ottenuto il massimo cancro dovrete procedere per tentativi oggi e avere il coraggio di lanciarvi anche in imprese in cui esito finale non è garantito non abbiate paura di sbagliare il successo prima o poi arriverà leone se farete le cose con passione sarete premiati con risultati superiori ad ogni aspettativa energia positiva che accumulerete nel lavoro ve la porterete fino a casa vergine non cercate di imporre agli altri le vostre preferenze ognuno ha i suoi gusti e per quanto strano possa sembrarvi non a tutti piace quello che piace a voi bilancia se volete attirare l'attenzione di una persona che vi interessa molto oggi dovrete mostrarvi un po più audaci entro sera vi verrà confidato un segreto scorpione parlate sempre a ragion veduta oggi e fate attenzione che gli altri non fraintendano ciò che direte un equivoco potrebbe essere fonte di molti problemi sagittario non è possibile prevedere nei dettagli quello che si verificherà nei prossimi giorni e settimane ma oggi potreste farmene almeno un'idea generale capricorno mettetevi al lavoro per tempo e dateci dentro fermatevi solo di tanto in tanto per valutare i vostri progressi acquario non aspettate l'ultimo momento per correggere gli errori compiuti lungo il percorso cercate di individuarli ed eliminarli via via pesci fate attenzione ai segnali agli avvertimenti che si nascondono dietro alla maschera tranquillizzante della routine preparatevi ad affrontare qualcosa di inaspettato